buongiorno a tutti su queste belle immagini di una val di fiemme imbiancata siamo a proporvi le ultime novità di quello che saranno i due weekend di grande sci in val di fiemme da venerdì 8 a domenica 10 gennaio ritorno al tour de ski per la quindicesima volta da lago di tesoro al cermis tre giornate veramente incandescenti poi il weekend successivo ancora tre giornate di coppa del mondo di combinata nordica fra predazzo e lago di tesero le gare del 2021 saranno sicuramente condizionate dalla pandemia nella forma ma non nella sostanza perché le gare saranno comunque spettacolari invece il comitato dovrà affrontare veramente grandi lavori per organizzare queste queste giornate di gare ce ne parla pietro de godens presidente del comitato promozione dello scival di fiemme grazie mario direi che noi ci sentiamo pronti per questo evento anche in condizioni difficili difatti il comitato ha organizzato tre mondiali gran parte del comitato sono le stesse persone 300 oltre 300 gare coppa del mondo il tour de ski l'anno scorso ha raggiunto le 100 gare ed è l'unica località al mondo che ha organizzato è stato presente in tutte le edizioni quindi sicuramente numeri importanti un comitato collaudato altrettanto sicuramente una situazione molto difficile il programma ci vede coinvolti per due fine settimana di tre giorni il bene iniziamo l'otto gennaio con la ma start 15 km maschile e la 10 km femminile il sabato le sprint e dopo per arrivare alla final climb che è veramente il diciamo l'evento più importante dello sci in durante la stagione invernale l'anno scorso è un numero per per raccontare la dimensione di questo evento o di questi eventi della val di fiemme siamo arrivati a oltre 500 milioni di telespettatori fine settimana successivo combinata nordica due prove individuali e dopo una una team quindi proprio vedremo anche la nostra squadra italiana oltre tutte le altre che si confronterà un po in questa pratica sicuramente quanto mai emozionante col salto la mattina e il fondo pomeriggio ecco adesso uno spazio le immagini del di highlight dell'anno scorso che hanno impassato in televisione e anche quest'anno andranno in diretta televisiva in tutto il mondo nelle più importanti rete televisive musica 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 questa partnership che abbiamo ormai dal 2013, il mondo della Coppa è stato assieme al Trentino, erano i due sponsor nazionali, siamo partiti di lì, sono riusciti a coinvolgere anche Copp Norvegia, che tra l'altro è diventato main sponsor adesso delle gare di Coppa del Mondo e del Tour des Cis. Mi ricordo un bellissimo villaggio che avevamo qui proprio a Cavalese e che presentava anche tutti i prodotti del mondo e della gastronomia italiana, perché alla fine noi rappresentiamo sì il Trentino, ma soprattutto in un campionato del mondo l'Italia. Quindi da lì siamo partiti, Copp Norvegia alcuni anni dopo è entrata anche come sponsor della Coppa del Mondo, ma anche sponsor nel 2016 della Marcialonga, che alla fine è un po' la madre, direi, del punto di partenza, insieme al Topolino o allo Schirischi Trophy, delle gare di Coppa del Mondo che si sono svolte in Val di Fiemme. Dobbiamo ricordare senz'altro anche la medaglia di Franco Nones e i gruppi sportivi delle Fiamme Oro e delle Fiamme Gialle. Quindi però tornando ai volontari diciamo che questi eventi siamo felici di poter aver dato una divisa sicuramente molto molto bella e la vedremo un po' tutti, qui abbiamo le maglie, però in collaborazione con la cooperazione che alla fine è il cuore anche dell'economia a livello trasversale del nostro Trentino. Quindi un grazie particolare al Presidente del site Renato Dal Paluca che è qui oggi con noi, ma anche a Vegard che è il rappresentante della Norvegia e al Presidente di Coppa Italia che ci hanno seguito in tutto questo percorso. Ecco, ora abbiamo parlato di questo grande rapporto della Coppa con la Val di Fiemme e Pietro De Godenz ha introdotto Renato Dal Paluca, a cui passo la parola per parlare di questa partnership con la Val di Fiemme e soprattutto questa collaborazione per vestire i volontari per le prossime gare di Coppa del Mondo. Devo dire che per noi è stata una cosa quasi naturale, come diceva Piero, questa collaborazione è partita nel 2013 con il coinvolgimento anche allora di Coppa Italia e Coppa Norvegia e devo dire che il padre un po' di questo percorso a me piace ricordarlo è Vincenzo Tassinari, il Presidente di Coppa Italia di allora, perché è a lui che dobbiamo lo start di questa iniziativa. Poi nel corso degli anni la cosa si è evoluta e quest'anno quando il Comitato ci ha chiesto la possibilità, la disponibilità di collaborare per vestire i volontari, devo dire che dopo un confronto con le famiglie cooperative della Valle che dobbiamo ricordare anche loro sono parte essenziale di questo progetto, ci è risultato quasi naturale a consentire e dire di sì, ripetere questa iniziativa. Un'iniziativa che dovrebbe vestire i volontari fino alle Olimpiadi, quindi noi pensiamo di arrivare alle Olimpiadi e poi affidandoci evidentemente al Comitato Organizzatore confidiamo che ci sia un'altra organizzazione dei campionati del mondo e chissà che si possa evolvere anche in quel contesto. Per noi devo dire che è una cosa importante partire dall'entità locale, per cui dalle cooperative della zona, per passare sul livello provinciale e poi aver coinvolto il Consorzio Nazionale Copitalia e io ringrazio in questo caso Pedroni, il Presidente che ha consentito, ha sottoscritto con entusiasmo l'iniziativa e poi questo connubio con CopNorvegia che ormai direi è un partner fisso di questi eventi ormai dal 2013 come dicevamo e dà tutto un ambito anche, fatemi dire, un po' di fratellanza tra popoli, perché è un qualcosa che non riguarda il business in senso stretto, questo è un qualcosa che è uno scambio culturale, uno scambio sportivo che riguarda le giovani leve e a noi piace questa cosa, evidentemente la sponsorizzazione dei volontari è una grande famiglia e da questo punto di vista a noi un progetto di una comunità come quella di Fiemme evidentemente che si promuove attraverso questi eventi sportivi non possiamo che vederlo, come dire, in maniera estremamente positiva. Ecco, siamo in un periodo in cui non si può viaggiare oltre la propria provincia e allora il presidente di CopItalia, Pedroni, ci manda il proprio messaggio. CopItalia è davvero molto contenta di partecipare insieme alle famiglie cooperative, al loro consorzio, il site e insieme alla CopNorvegia al sostegno del comitato organizzatore della Copa del Mondo di Sci di Fondo. Il Tour de Schia è un appuntamento davvero importante, dà valore alla promozione dello sport, allo sport anche per tutti e noi crediamo che lo sport come esempio di sostenibilità ambientale, sociale, come impegno per la salute, sia davvero un bel messaggio. E quindi la Copa è di fianco agli atleti, agli organizzatori di questa importante attività e siamo contenti di poterlo continuare a fare. Ciao a tutti. Ovviamente non ci ha potuto raggiungere dalla Norvegia lo sponsorship manager di Cop Norvegia che è un appassionato della Val di Fiemme, viene tutti gli anni per vedere il Tour de Schia, ha voluto festeggiare i propri 40 anni qui in Italia in occasione delle gare e arriva sempre ad assistere anche alla marcia longa. La parola a Vegard. Buongiorno, buongiorno, Val di Fiemme. I would like to send you a warm greeting from Cop Norvegia and I'm sorry that this time it has to be digital. But we will come back and visit you as soon as possible. You know that Val di Fiemme and cross country skiing is very important for Norwegian people and it's very important for Cop Norvegia. The sport is important, the sponsorship of Tour de Schia is important and the cooperation with Cop Italia, with SITE, with the local cooperatives and with the local organizing committee, it's very important for us. So thank you all for this great cooperation and good luck now, Good luck with the competitions, good luck to the athletes, good luck to the teams, good luck to the organizers, good luck to the audience and the people in Val di Fiemme. And in the end we would like to say felice anno nuovo and arrivederci. Ciao, ciao. Abbiamo parlato di Tour de Schia finora di organizzazione. La grande macchina organizzativa messa in campo per questa edizione ma ovviamente ci sono anche gli atleti e anche gli atleti italiani. Ce ne saranno 14 quest'anno al Via del Tour de Schia e ce ne parla Marco Selle, Fiemme, anche lui, che è il direttore tecnico della Nazionale. Sì, ciao a tutti anche da parte mia. Saranno 14 ragazzi, 7 nella categoria femminile e altrettanti maschi. Abbiamo due punte di diamante, come sappiamo, Federico Pellegrino, soprattutto nelle prove sprint, però non è escluso che quest'anno possa provare anche nelle gare distance e magari per la prima volta in carriera raggiungere il Cermis e Francesco De Fabiani, che è l'uomo di distanza. Abbiamo 4 Trentini, Salvadori, che anche speriamo possa ripetere le buone gare che ha fatto nelle edizioni precedenti. C'è Francesca Franchi, esordiente, ha fatto bene finora in Coppa Europa. C'è Paolo Ventura, qui di Tesero, che non vede l'ora di esordire sulle piste di casa. E Ilaria De Bertolis, delle Fiamme Oro, che invece è un'atleta esperta e speriamo che anche lei possa contribuire al buon risultato della squadra italiana. C'è anche una new entry nella squadra, figlia d'arte, di Centa. Martina è al suo esordio assoluto in Coppa del Mondo, è una classe 2000, quindi una ragazza che al primo anno di categoria è qui per fare esperienza. Ha un cognome pesante, sia per i risultati ottenuti dalla zia che dal padre, ma non aspettiamoci risultati subito. È un percorso, quello di avvicinamento ai primi posti della classifica delle gare di Coppa del Mondo deve essere per forza un percorso, a meno che tu non sia Belmondo o Claebo, è comunque per tutti una scala con tanti scalini e lei sta iniziando a procedere in questa direzione. Appunto Marco, Claebo. Claebo quest'anno, come tutta la squadra norragese, non ci sarà? Qual è il tuo punto di vista? Ma è una scelta legata alla pandemia e quindi è da rispettare sicuramente, perché la salute viene prima di tutto. Fa un po' specie vedere che altre discipline hanno continuato, mentre unicamente il fondo a livello norragese ha fatto questa scelta qui. Determinata probabilmente dalla volontà dei loro big, Claebo in primis o Yoaug, ma anche un po', sicuramente, perché è il loro sport nazionale, la squadra è nettamente più forte di tutte. Forse sarà un tour un po' più vivo, un po' più interessante fino all'ultima tappa. Questa è l'unico vantaggio dell'assenza della squadra più forte del mondo. La Val di Fiemme è nota in tutto il mondo per organizzazioni di alto livello, 300 gare di Coppa del Mondo, forse più, anche altre gare internazionali, tre campionati del mondo assoluti, un campionato del mondo junior, Winter Universia di campionato del mondo di Schirol, insomma, organizzazione sicuramente di grande livello. Ma come ci vede il mondo dell'oscillo? Chiediamo a Marco Selle. Sì, per lavoro io frequento i comitati organizzatori un po' di tutto il mondo, sia i tecnici che gli atleti. Tutti i protagonisti vengono molto volentieri in Val di Fiemme. È un'eccellenza assoluta, paragonabile a Oslo, Lati o Falun. Devo fare i complimenti, pur essendo di parte, perché essendo fiammazza è facile, e avendo fatto parte anche io stesso del comitato organizzatore ai mondiali del 2013, però davvero è un onore per me essere seduto in sala a riunioni e quando si parla di Val di Fiemme, tutti che partono con complimenti, mai sentito davvero una critica che sia una critica reale. e quindi ci torno volentieri perché abito qui, ma ci vengo volentieri anche perché è molto apprezzata da tutti gli stakeholders che fanno parte del mio mondo. Dunque, siamo in conclusione. Abbiamo detto che è una Val di Fiemme completamente innevata, saranno immagini televisive splendide, una Val di Fiemme che si offre al mondo non solo con lo sci di fondo. Pietro De Godens. Vorremmo, visto anche l'ambiente che sicuramente è perfetto e spettacolare, invitare tutti a vederci in televisione. Purtroppo non è possibile assistere alle gare sul Campogare, anche tutti i volontari, gli atleti devono essere tamponati 48 ore prima dell'evento, quindi viene creata la famosa bolla, e quindi però lo spettacolo, le riprese saranno delle riprese fantastiche, vi invitiamo veramente a seguirci, perché dobbiamo superare quei 500 milioni di telespettatori che abbiamo raggiunto l'anno scorso. Quindi è sicuramente un fine settimana, anzi due fine settimana importanti. Quindi buona visione a tutti e stateci vicini, ne abbiamo bisogno.